Ti faccio una bella pizza fritta che ho vinto il 2017 che si chiama pizza femmina e fritta ci andiamo a mettere un po' di provola, ora la vado a chiudere, io la giro una volta, un po' di ricotta di pecora, molto leggera, poi ci vado a mettere un po' di mortadella con pistacchi, poi ci vado a spezzare un po' di limone e poi ci mettiamo un po' di pistacchi cotti, a questo punto io prendo un po' di pepe ma giusto per, questo punto lo mettiamo qua provola, so fragrant